buongiorno tutti ben ritrovati sul mio canale oggi proseguiamo la nostra avventura su project zomboid in particolare quella con il dottor casa quindi riprendiamo dal punto che sia rimasti la scorsa volta come sempre vi lascio la intro e ci vediamo fra pochissimo buona visione rieccoci nebbione l'avevamo previsto sentendo la radio e ora abbiamo un pochettino più di cose ecco di loot facciamo un po piccolo riassunto sulla mappa abbiamo controllato tutta questa via questo isolato qui che in realtà ecco mi sono dimenticato di segnare 1 e 1 2 che ci avevano dato un bel po di frutti e ora l'idea era di andare a vedere qua sopra e soprattutto di cercare se possibile una stazione di benzina ricordo che ce n'è una qui più o meno però è un po' distantina se ci fosse la possibilità di trovarne una un po più vicina non sarebbe male solo che non ne ho idea non lo so potremmo forse anche andare a vedere in qui perché in realtà qui sappiamo che almeno il primo pezzo non c'è perché c'erano queste case qui poi di qua c'era un'altra serie di case però non l'abbiamo esplorata tanto tanto si potrebbe andare a vedere qua a destra quindi salire su di qui e poi girare a destra però qua c'è anche un negozio di libri molto interessante intanto andiamo a vedere il volume un po alto quindi spero di non cagarmi addosso cosa molto probabile qui abbiamo la pasta che un post che è stantia ma ce la portiamo dietro ugualmente abbiamo due zainetti una cartella borsone non sono niente di speciale ma ci aiuteranno a portare un po di cose in più ecco andiamo a vedere 8 del mattino a cavolo siamo depressi molto depressi non sarebbe male studiare un libro leggere un libro e la pretende leggere un libro così da avere un po di di levarci la depressione ecco in questo modo spostiamo le cose più velocemente buono siamo solo infelici per ora chiudi le tende in realtà qui che non abbiamo ancora tutte le tende è una cosa indecente dovrei trovarne molte di più ma va bene vediamo che nebbione assurdo e se aspettassimo perché mi cago un po dosso questo nebbione ci abbiamo cose da fare in casa forse no non abbiamo torce vero non abbiamo torce al propano no potremmo leggere libri a sto punto io onestamente non vorrei uscire per ora almeno fino a che non cala un po sto nebbione che libro stava leggendo cucina tanto prima o poi dovremmo dobbiamo fare anche quello quindi apri tende siediti e andiamo a leggere sto libro di cucina è fondamentale anche leggere queste cose per avere più moltiplicatore all'esperienza che comunque un po di cucina sta salendo ecco se abbiamo un moltiplicatore buono ci aiuta a ottenere molta più esperienza forse non deve essere iniziando ad andare via se anche perdere un giorno mi scazzerebbe un po ottimo ottimo chiudi tende undici e mezza se ne va e noi usciamo usciamo quindi libro di cucina via mangiamo visto che abbiamo fame mangiamo prima di uscire e poi lasciamo qua quindi la casseruola perfetto casseruola casseruola eccola qui posiziona qua poi ci sarebbe da cucinare effettivamente ci sarebbe da cucinare perché qui abbiamo tutta roba non deperibile che non mi va molto di usare ovviamente però vediamo vediamo intanto qualcosa ci abbiamo eventualmente come spuntino no un cazzo cerchiamo di prenderlo strada facendo o come si vede bene adesso come si vede bene non volevo rischiare di beccarmi un gruppone di zombie nel nella nebbia totale andiamo in su andiamo in su siamo abbastanza bene equipaggiati e queste barre di metallo durano parecchie fanno anche abbastanza male sono anche a una mano quindi possiamo in questo modo portare tutti e due i zaini ottimo perfetto abbassa un po il volume perché non sento un bel niente ok allora su di qui facciamo sempre la stessa strada così sappiamo che salvo qualche vagante come prima sono zone libere qui non c'è nessuno questo è stato un bellissimo isolato da controllare abbiamo trovato tante cose interessanti speriamo che continuino così questo non mi ricordo se l'abbiamo controllato forse no perché è chiuso e non ci sono finestre esatto e per disassemblarlo servirebbe a come non detto torcio al propano e la maschera perché è di ferro ok no non c'è niente spero che ci sia un lutto interessante visto che è così barricato qui siamo qui vero sì perfetto quindi andiamo dritti vediamo questi negozi qua e poi giriamo verso destra magari qua c'erano un po di macchine ricordo però ci servirebbe qualcosa dove tenere la benzina le nostre bottiglie si svuotano in un secondo ci hanno visto non ci ha visto nessuno io direi andiamo su di qui questi qua per ora li ignoriamo un pochettino e vediamo queste macchine uh ciao vediamo queste macchine se magari ce ne fosse una funzionante con le chiavi con la benzina sarebbe perfetto magari un purgoncino ci hanno già visto in tre cavolo hanno uno sguardo assurdo in quattro forse questo c'è un coltello probabilmente non particolarmente utile occhio perché la gittata è quella che è potevo mettere già la mazza cioè la sbarra magari per le prossime pensiamo ottimo comunque una mazzuolata nei denti troppo piacere non dà occhio ottimo uno e l'ultimo perfetto allora orologi digitali mettiamo qua per ora chiaramente solo coltello da burro come non detto niente quindi andiamo a finire anche questi tre qui e poi quante macchine ce ne sarà una con della benzina o funzionante o entrambe piacerebbe eh hai visto un bel liscione e hai detto prendiamolo non so perché ogni tanto dall'amazzuolato ogni tanto invece spinge perfetto allora questi niente niente di niente niente di niente non velocizzo perché ho un po di paura allora motore sfondatissimo benzina vuota perfetto queste incidentate siano sfondate ci sta che non abbiano benzina è un peccato non si può manca entrare bene sacco spazzatura un po per pneumatici può venire comodo può venire comodo ok andiamo davanti chiavi e filo ma ok ok praticamente serve almeno la chiave va bene non abbiamo la chiave la chiave va bene non abbiamo la chiave va bene qui c'è un altro gruppetto da quattro si però stavolta mettiamo questa fa più danni abbastanza si è un rumore particolarmente soddisfacente più gittata anche quello è molto importante aia aia più gittata ma non così tanta ok perfetto mantenuto giù allora no no e no fantastico cosa ci abbiamo depressi guai perché stiamo divertendo un sacco che deve essere depresso qui non c'è nessun altro ok controlliamo un po ste macchine oh bello sto pick up bello 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 quello mi piacerebbe molto che andasse allora motore abbastanza buono senza benzina discrete condizioni niente chiave almeno non per ora no niente chiave ehm bagagliaia aperto andiamo a vedere vabbè bottiglia vuota che la prendiamo giusto perché qualora ci servisse cioè trovassimo un po di benzina ma niente tani che almeno abbiamo due bottiglie questo furgoncino mi interesserebbe anche se ha tanti posti motore rotto senza carburante tutti uguali tutti uguali tanti posti questa è la chiave peccato peccato eh sì senza benzina completamente però avendo la chiave posso accendermi una sigaretta oh sì oh sì vediamo se riusciamo a fare a fumare perfetto almeno una sigaretta ogni tanto ce la meritiamo via e infatti buona parte della depressione se n'è andata controlliamo anche queste altre case onestamente la chiesa non è che mi intrighi granché eh mai trovato niente di particolarmente utile però questa sembra abbastanza grossa allora motore buono benzina niente piccato chiave addirittura chiave ma niente di utile bagagliaio aperto vuoto però venite dai venite e così liberiamo bene la zona c'è da bere dobbiamo bere perché stiamo iniziando a disidratarci in maniera importante buona manutenzione utilissimo manutenzione utilissimo perché fa rovinare meno le armi vieni ottimo ok questo abbiamo solo no per ora niente piccolo malus ha le cose portate al peso mi sembra va bene facciamo fuori l'ultimo ottimo perfetto niente di che macchina siamo assettati ok abbiamo ancora un pochettino di margine allora motore in ottimo stato però niente neanche qui niente carburante abbiamo trovato una macchina con un minimo di benzina eh perfetto fantastico cacciavì tannica di ben oh bella questa questa molto molto bella la mettiamo qua chiave inglese la prendiamo perché comunque di armi non è che ne abbiamo così tante io vorrebbe ora trovare un po' di benzina perché la tannica è utile ma se hai della benzina così a quel punto possiamo portare tranquillamente la benzina indietro per ora i mezzi trovati non particolarmente eccelsi eh se trovassimo della benzina potremmo rivalutarne qualcuno ma non sono particolarmente buoni non fanno urlare al miracolo vediamo questo allora uh che bello ottimo c'è anche il pieno questa veramente bello questo peccato che non abbiamo la chiave peccato a non aver la chiave è anche chiuso questo è molto molto bello dietro non c'è niente però 82 un bel peso peccato qua niente chiave non lo troviamo neanche vicino direi di no perchiamola magari ce l'hanno questi simpaticoni qua ecco di questo vorrei trovare la chiave forse hanno tirati un po' troppi ok un attare buono almeno si uh che bello si rallentano un po' e diamo delle belle botte occhio qui alla macchina che ogni tanto ci incastriamo vai ottimo peccato va bene e come sei rialzato velocemente allora no il tuo quarto niente peccato qui ce n'è altri ora siamo sempre assettati ok facciamo il giro qua dell'isolato così vediamo anche che tipo di attività ci sono per ora solo zombie benissimo benissimo perfetto allora no no questo che cos'è questo è un magazzino enorme vuoto pieno di sedie e di tavoli che cos'è uffici o negozi di mobili non mi sembra nessuno dei due onestamente perfetto no e no va bene facciamo il giro dell'isolato vediamo intanto che cos'è di qui cosa c'è nulla ah di qui forse c'è il code dove siamo morti quando in sei mesi dopo quando avevamo trovato la katana forse sì ok quanti ce n'è pieno eh pieni in questa zona banca diciamo che in realtà ormai siamo troppo distanti sicuramente questa è la chiave di quel pick up non ce l'hanno ahia sta rompendo questa arma ok perfetto allora niente niente solo un orologio e niente una mappa annotata questa la guardiamo subito il luizio il peccato cosa dice curiosità grazie per avermi messo a terra questa era la mia casa vedo tutto quello che mi serviva magari prima o poi un salto ce lo faremo anche però rinomina louisville ok vabbè e le diamo il caps louisville e così lo sappiamo la mettiamo via questa qui questo qui tra le chiavi via dobbiamo andare a bere siamo disidratati ora è chiuso che cosa c'è? ah solo banca mica che grossa eh che dentro ci sono zombie me lo aspetto niente ah dobbiamo cercare di fare un po' di attenzione perché qui dobbiamo aprirci intanto una strada verso l'uscita che è qua ok almeno sappiamo dove scappare perfetto ora questo potrebbe essere una sorta di bagno ma è dov'era prima ok come l'ho detto allora questa è di fianco è la cucina sì fino a che comunque ha un lavello va benissimo bevi uh buono buono per ora queste le prendiamo non possiamo mangiarli ancora ci lo può dare cosa ci leva? va bene va bene per ora mangiamolo perché abbiamo solo questo è un po' uno spreco ma va bene buono buono ma non qua da me perfetto succo in scatola poi ce lo beviamo subito tutto marcio tutto marcio giustamente avanti eh cracker certo mettiamo prima come priorità il borsone casseruola portiamola sempre comodo sempre comodo avere queste cose ok eh uno due e tre certo andiamo a vedere quando mi sembra che battano però ok va bene poi non c'è nessuno questi quadri poi li potremo portare via per abbellire le case allora saranno qui saranno bagno ok bagno tutti di sopra quanti sono? perca troia sapevo che mi sarei cagato addosso e così è stato fate sempre attenzione allora ok va bene sempre sempre attenzione ciao Franca siamo stanti eh ehi muore ok eh dobbiamo prima finire dobbiamo prima levare tutti gli zombie poi ci riposiamo hm no qui non ce ne ha altre porte eh che cavolo è cos'è? qui non ci sono altre porte qui nemmeno no di sotto mi sembra di averle già viste tutte qui ci siamo già stati qui non penso che possano battere sulle porte dei bagni vediamo no no ok ok l'altro ah si invece malefica mi hai fatto cercare per mezz'ora ed eri qua ok una chiave una chiave probabilmente di questo posto in ogni caso la prendiamo quindi in parte era vero non possono essere all'interno ma erano erano era lì fuori a battere sulle sulla porta ok andiamo a perlustrare sopra che abbiamo già controllato ma questi queste cose qua mi interessano molto colla non male un taccuino vuoto per ora no abbiamo di nuovo sete e che cavolo ah perché ho bevuto ma non ho riempito la cosa beh abbiamo intanto il succo si ci leviamo intanto al malus poi riusci benda e riempiamo oh vai anche la casseruola che probabilmente non è riuscita non è da sufficienza ovviamente mettiamo qui che vediamo bene e riposiamo ah mica sono già alle sette e quaranta eh devo tornare indietro prima che venga prima che ci venga sonno andiamo di controllare questa casa grossa qui e poi torniamo indietro penso che qua ci sono i bagni riempi tutto eh di due livelli ce la faremo a riempire tutto o comunque a buona parte qui ne abbiamo altri ok ho fatto un bel pienone d'acqua eh bello 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 questo prendiamo tutto se la mettiamo qui puliamo anche la benda visto che stiamo qua ci sta qui non c'è nient'altro eh qui abbiamo già controllato tutto questo può essere una buona zona dove venire a fare un po' di carpenterie allora ci servisse questo dobbiamo contrassegnarla eh allora controllato e una macchina oh che bella macchina senza benza però messa molto molto bene no si che c'era scusa è solo che non abbiamo la chiave e per ora ce la portiamo via carburante serve più a noi che a te almeno quello che abbiamo messo qua dentro poi queste sono tutte senza quindi niente giusto? infatti tutte senza benzina ah giusto non è che ce n'è una che ci portiamo via fammi vedere questa abbia la chiave anche della station mi sembra là sotto allora motore eh motore mezzo e mezzo eh meno che mezzo e mezzo non è granché questa qua questa non abbia la chiave buono un ricorso questa non abbia la chiave questa abbia la chiave ma mi sembra che anche questa sia messa male dai no no c'ha il motore messo bene potremmo riempirla e portarcela via perché no il bagagliaio non è il massimo ma una macchina in più fa sempre comodo vediamo se riusciamo a non fare troppo casino ma il motore era buono eh ok vediamo oh furgoncino voglio vedere una cosa solo se hai della benza no peccato 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 poi lo controlleremo bene voglio solo vedere se va della benzina vacca vacca via via questa è la scuola due ruote che abbiamo fatto via via abbastanza libero qui bene ottimo ottimo perfetto molto bene molto bene molto bene credo che abbiamo già sfondato il questa barra qui l'hanno detto anche che dura parecchio e in realtà è già finita ma vabbè mettiamo via le cose allora cosa abbiamo qua allora chiave inglese sì per ora sì anzi qua dentro poi abbiamo nastro adesivo colla carti metallici e sacchi da spazzatura iniziano ad essere già un discreto numero poi 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 qui dentro niente ovviamente ok ok ah e vabbè sì no la bottiglia la tannica di benzina ce la portiamo dietro sempre perché non si sa mai questa è vota vero? sì perfetto allora via a proposito abilità noi abbiamo meccanica dov'è? meccanica 1 dobbiamo portarla a 2 e portare a 1 elettrica ci vorrà un bel po' eh mappa ah questo non serve questo orologio lo buttiamo questo orologio lo buttiamo poi bottiglia d'acqua e altre due bottiglie d'acqua ok così ne abbiamo due e van bene fasciature via va bene poi pesche e la casseruola casseruola che per ora è con acqua la mettiamo qui perfetto e poi queste pesche e i cracker invece le mettiamo qua a questo punto direi vediamo se riusciamo a cucinare qualcosa qui abbiamo due casseruole ma senza acqua qua ci abbiamo quelle con l'acqua se ora con acqua possiamo cucinare pasta e riso diciamone però uno solo per ora una alla volta che non vorrei mandarli di nuovo in stanti ci aggiungiamo abbiamo qualcosa eventualmente da utilizzare tipo il chili il chili e i fagioli uno ovviamente lo aggiungiamo a questo riso mi sembra un ottimo piatto e aggiungiamo fagioli e aggiungiamo chili un po' di pasta di pomodoro assolutamente sì e un po' di marinara come siamo messi? meno 50 fame non è male un po' di pepe un po' di sale un po' meno 4 minuti per ora non male mi scazza un po' usare questo fornello ma per ora utilizzeremo questo qua c'è abbastanza in fretta? sì abbastanza non particolarmente ma abbastanza ottimo spegni meno 65 mi sembra un ottimo piatto peso come siamo messi? buono 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 perché stiamo già per levarci il sottopeso e direi che lo possiamo tenere qui per domani questo già cotto è già pronto queste due le buttiamo via così facciamo un po' di ordine via direi che possiamo essere pronti per andare a dormire no solo assonnati siamo un po' presto un po' presto però vabbè non abbiamo nient'altro da fare possiamo leggere ancora un po' leggi no non si può leggere chiudi tende a questo punto ci andiamo a dormire anche se è un po' presto probabilmente ci sveglieremo prestino buonanotte come sempre ci vediamo alla prossima grazie per aver seguito l'episodio e ricordatevi di sostenere con un bel mi piace e iscrivendovi al canale abbiamo fame? mette a vento mi sembra dello sparo 5.40 va abbastanza bene dai stanza bene vediamoci qui leggiamo un po' poi stacchiamo leggere direi va bene cerchiamo di finire il libro dai poi andiamo a mangiare sono dimenticato di guardare il programma facciamolo subito che se no la prossima me lo dimentico sicuro cosa dice? se dice qualcosa perfetto vento domani temperatura vabbè giustamente è ancora luglio quindi va bene cieli limpidi non male ok va bene perfetto mangiamo metà l'altra metà ce la portiamo siamo a 70 kg siamo ancora sotto peso questo lo portiamo qui grazie e alla prossima da Gregorio è tutto ciao ciao